...che si ritrovano i tre attaccanti in questi anni, una riattura totale, sembra una maledizione. E a Davide, a proposito dell'infortunio, volevo sapere come stai, perché ho visto che salti diverse partite, lui mi tanto scherza e dice, gioca meglio quando si arriva a fuoco, però per esempio domenica è in panchina, io penso che, chi sa che sta bene, gioca più avanti, insomma, almeno questo è stato nella Fiorentina in questi anni. Però per Federico posso dire, se non ho un grandissimo bocca al lupo, di prendere l'infortunio con serenità e con distacco per esperienza di loro, perché ho avuto un infortunio molto simile, più o meno alla sua età, mi sono operato la stessa chimica tra l'altro, e di essere distaccato e di vedere la sua realtà in maniera distaccata, perché se l'infortunio è così grave, preso nella maniera giusta, puoi vedere anche dei risvolti positivi. Lo so che è difficile accettare, ma talvolta fermarsi, se preso nella giusta maniera, può ritare. E gli auguro questo e sono certo che possa recuperare al meglio la sua condizione fisica, perché è l'infortunio che si recupera nella sua totalità.